Teniamo a questa giornata perché abbiamo voluto dare uno spazio di espressione, di sano protagonismo alle giovani generazioni. Abbiamo voluto anche aggiungere, come l'anno scorso, alla città dei bambini i ragazzi, perché è la fascia di età più a rischio e quindi ha diritto al suo spazio di visibilità e di espressione. Le giornate sono tre, sono quelle di mercoledì 7, in cui al Politeama, alla Gandiglio farà il suo concerto e in più i ragazzi del liceo scientifico leggeranno poesie e prose creative. Poi nella mattinata di sabato 10 i ragazzi della Polloni parteciperanno a parole di mezzeria con il coordinamento di sistema museo e nel pomeriggio di domenica 11 maggio si svolgerà la città da giocare con la partecipazione di tante scuole primarie e dell'Istituto Olivetti che farà un set fotografico per tutti quelli che vorranno fotografare.